mister ogni tanto bisogna anche rendere conto di un avversario forte oggi morazzo è venuto qua ha fatto la sua la sua partita leggino partito bene ha parso anche un po scarico ma c'è anche da dire che le le assenze che anche ti hanno anche condizionato dal punto di vista tattico oggi sì ma innanzitutto complimenti a chi ha vinto perché una fase nazionale si è alzata l'asticella nessuno ci toglie il titolo regionale che abbiamo vinto e che è giusto ricordare però oggi è una partita di una fase uno step in più abbiamo provato a fare a chiudere facendo bella figura e sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo andando in vantaggio subito forse c'è anche un po illuso che potesse andare diversamente poi purtroppo abbiamo preso i due gol una 1 2 a 1 su due disattenzioni nostre il reparto difensivo nostro è sempre stato ottimo quest'anno oggi abbiamo fatto tutti e quattro gli errori che non abbiamo fatto gli ultimi due mesi l'abbiamo fatto di un giorno solo diciamo che primo tempo 2 a 1 poteva starci anche il 2 a 2 abbiamo avuto una buona occasione con moscatella fine però è uscito con un buon primo tempo tutto sommato una partita che ci stava e nel seconda parte la prima mezza occasione che abbiamo avuto un rimpallo che non si è chiuso neanche un ultimo in porta abbiamo subito partito quel 3 a 1 con un errore di latini che succede per un giocatore straordinario è andato forse con un po di sufficienza poi si è fatto anche male e a quel punto lì diciamo che la partita non è che non c'è più stata però noi siamo stati un po forse abbiamo subito il colpo e poi siamo rimasti in dieci ultimi minuti la partita non era chiusa peccato non avere non essere riusciti a segnare il gol del 3 a 2 prima di prendere il quarto potevamo magari stare un po più un po più dentro diciamo che era la stafase nazionale qua era un'occasione nostra di tolgerci uno sfizio magari fare un punto che ancora c'è una partita non si sa però si è testa alta e esperienza per i ragazzi per me per tutti esperienza comunque è stata anche una giornata da ricordare per tutto l'ambiente per te anche soprattutto ora adesso un'ultima partita diciamo che ci sarà un po più spazio per le seconde linee per chi ha giocato meno in questa in questa stagione adesso ancora una partita tra l'altro la più difficile possibile prendiamo il piano loro sono campioni di tale di categoria quindi insomma sarà una partita particolare però andiamo per onorarla perché giusto sarebbe giusto secondo me chiudere la stagione così importante come che era del primo titolo regionale del legge nella prima volta fai una fase nazionale oggi dicevi bene una giornata da ricordare che sarà non so se l'ultima volta si gioca con una terna più il quarto uomo è bello siamo abituati ad un livello che non era il nostro in partenza quindi va anche detto questo quando parti da x riesci ad arrivare più sopra tanto di cappello poi se cerchiamo di dare spazio a chi merita spazio ma anche di fare una partita sarebbe bello uscire con un punticino da non chiudere proprio a zero però loro sono molto forti devono qualificarsi dovranno giocare anche all'arimbaggio perché purtroppo per noi oggi abbiamo dato tre gol di differenza in favore a morazzone quindi il volpiano lo sa e speriamo di uscire con una buona figura da torino l'applauso finale che suggerisce una stagione che è stata davvero incredibile adesso come detto si andrà a giocare l'ultima partita per onorare quanto fatto con una certezza quella della futuribilità di questa rosa con tanti ragazzi che sicuramente avranno futuro nelle categorie locali non solo sì sicuramente è stata una stagione adesso c'è un attimino amarezza di oggi perché è normale si è appena perso però una stagione da ricordare tutta la vita perché comunque arriva al di là del titolo che per il risultato conta però è stata proprio una stagione bella siamo cresciuti molto molti ragazzi sono cresciuti e ci tenevano loro primi per fare oggi una partita di un certo livello purtroppo secondo tempo non c'è riuscito quasi nulla di quello che volevamo però usciamo a testa alta e l'applauso del nostro pubblico locale fa piacere comunque gente che ci ha seguito durante l'anno soprattutto una seconda parte e quindi ce lo prendiamo e cerchiamo di andare avanti adesso a chiudere la stagione perché è questione di tre giorni e poi vediamo cosa riusciamo a imbastire per il futuro il tuo personale il mio personale è un giorno alla volta qua sono stato benissimo onestamente ho già parlato con fabio sto bene quindi ci sono tutti i presupposti per proseguire questo lavoro qua bisogna prendersi qualche giorno di riposo perché oltretutto oggi ho anche la febbre è stato un finale di stagione ma non ho la febbre per la partita però è stato un finale di stagione abbastanza tritante qualche giorno per respirare poi imbastiamo i discorsi certo che bisogna ripartire abituati da un mese a giocare con un terna arbitro a un certo livello bisogna rimettere le cose a posto e preparare una rosa all'altezza del prossimo campionato